Tirata d'orecchi del prefetto ai comuni che non fanno la propria parte per l'accoglienza dei migranti secondo le indicazioni del ministero, vagliate le disponibilità e le esigenze se necessario non esclude di procedere d'imperio anche contro la volontà delle amministrazioni. Si riferisce agli enti che non hanno attivato progetti SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo rifugiati o CAS, centri di accoglienza straordinaria. Non è il caso del comune di Lucera tanto che il sindaco Antonio Tutolo esce dall'ufficio territoriale del governo convinto che il prefetto Maria Tirone abbia compreso le sue ragioni rispetto al diniego espresso all'allestimento di un centro di accoglienza incontra da nocelli. Sindaci e amministratori sono stati convocati oggi e dal vertice emergono soprattutto le esperienze positive degli SPRAR specie sui Monti Dauni. Chi ha sperimentato i progetti è pronto a replicare. Arriveranno altri migranti a Orsara? Pensiamo di sì, il progetto SPRAR che da un anno a questa parte abbiamo ospitato ad Orsara sta funzionando bene. Abbiamo dei nuclei monogenitoriali, i bambini si sono perfettamente integrati nel sistema scolastico del paese, c'è una logica del confronto che il paese ha accettato che è positiva e funzionale anche alla crescita culturale e soprattutto chiaramente ci permette di limitare anche se in piccola parte il problema dello spopolamento. In più è confronto sociale, accoglienza quindi ci fa piacere avere questo progetto. Quanti potrete ancora accoglierne? Al momento la capienza del progetto è di 15 unità, noi siamo arrivati a 11 e aspettiamo altre indicazioni da parte del Ministero ma sicuramente come altri comuni tipo Candela e Barie proveremo a chiedere di aumentare il numero di persone che potremo accogliere sperando anche in progetti di rete che si stanno avviando con gli altri comuni dei Monti Dauni. Cerignola è pronta ad accogliere i migranti? Cerignola i migranti li accoglie già sia dal punto di vista di interventi SPRAR perché ne abbiamo tre proprio in questi giorni, scadranno i bandi sia per vulnerabili, che per minori non accompagnati, che per adulti e sia per l'accoglienza che facciamo in quello che è l'ormai ghetto di tre titoli, lì dove il Comune di Cerignola si fa carico di quelli che sono gli interventi di prima necessità e abbiamo dato la disponibilità sia al prefetto che alla Regione Puglia a cercare di fare un intervento strutturale in quella zona. Stiamo attendendo le risposte da parte della Regione e nonostante noi abbiamo dato la nostra disponibilità, siamo nel pieno del periodo estivo e risposte finali adesso non ne abbiamo. Arriveranno altri migranti a Carlantino? Già sono arrivati altri venti rispetto al numero che avevamo e diciamo che questo è una cosa che ci dispiace, ma va bene così. Abbiamo i soliti problemi perché non sono legati certamente con i migranti, sono legati più che altro a un rapporto con il Ministero direttamente, non certamente con la Prefettura e dove a un certo punto risultano vane promesse quelle che noi sentiamo puntualmente con i decreti leggi, con i soldi che verranno dati poi ai comuni che fanno accoglienza. Noi accoglienza la facciamo e la continueremo a fare perché ci crediamo in questo, tant'è che al di là se il Ministero risponderà alle sue vane promesse o meno, noi adesso presenteremo ufficialmente anche un progetto per uno Sprar, per circa una ventina di posti, quindi abbiamo già un CAS per 74, faremo uno Sprar per 20 posti. Quanti soldi vi dovevano arrivare che non sono arrivati dal Ministero? La promessa è di 500 euro a migranti che vengono dati al Comune in maniera, una tantum e in maniera indistinta, ma oltre ai soldi che devono dare al Comune per quanto riguarda proprio il pagamento a chi gestisce la struttura, che sono in nettissimo ritardo. I migranti saranno ospitati per il prossimo progetto sempre nella stessa struttura? No, questa volta li ospitiamo nel centro del paese e siccome possiamo chiedere la tipologia chiederemo delle famiglie, dei bambini, con la presenza di bambini per una maggiore integrazione sia per noi che per loro, quindi sarà una casa delle suore ormai in abbandono che verrà ristrutturata e lì andranno i nuovi migranti che arriveranno. L'Unione dei Casali Daoni è pronta ad accogliere i migranti, come? I tre comuni di Castelnuovo, Casalnuovo e Casalvecchio, proprio oggi abbiamo sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione, quindi attendevamo questo passaggio per intraprendere questa strada sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Abbiamo deciso di fare uno SPRAR, facendo degli incontri con i cittadini, con le nostre comunità, circa 50 su tutte e tre i comuni, quindi a breve indiremo il bando e proseguiremo nelle attività. In quali strutture? Penso strutture private, così anche da creare un po' di ricaduta economica sul territorio, ma anche l'obiettivo principale ovviamente è l'accoglienza. quindi